Andiamo adesso a un messaggio arrivato da parte dal Canada, da parte di Lina. Dio benedica fratelli canadesi, italiani però, no? Sì. Pace a tutti carissimi. Pace, gloria a Dio. Un abbraccio grandissimo nel nome di Gesù. A me, uno anche a voi. Sono Lina dal Canada e fratello Giuseppe, io frequentavo la Chiesa Evangelica poco tempo fa, poi perché non mi sentivo bene non sono andata e ancora adesso non vado, ma non ho la voglia di ritornare anche perché, seguo le tue dirette, facciamo la Santa Cena la domenica con voi, io e mio figlio Piero e mio marito. Ma il vero motivo non mi piace che quando predicano non parlano delle profezie che siamo agli ultimi tempi e tutto il resto. E loro dicono che il rapimento è prima della tribolazione. Quando ho letto tutto il capitolo di Matteo 24 tante volte e lo spiega bene che è dopo la tribolazione il rapimento. Ho imparato tanto da te, fratello Giuseppe, da quando ti seguo e sono contentissima e ringrazio sempre il nostro Signore Gesù perché c'era a sua mano per avermi fatto incontrare voi su YouTube. Volevo sapere, fratello, va bene così se seguo solo voi? Io non so perché questi pastori che predicano, nessuno spiega alla Chiesa il capitolo di Matteo 24. Non so se è perché non lo capiscono o perché vogliono nascondere la verità. Dio ti benedica grandemente, fratello, unito con la tua famiglia Angela e Dora. Siete sempre nei miei pensieri. Lina da Canada. Alleluia, grazie. Gloria a Dio, gloria a Dio. E sono fratelli dolci questi, l'abbiamo visto anche in Skype. Tutta la famiglia sono dolci pecorelle. Amano il Signore. Gloria a Dio. Un abbraccio, fratelli. Siete molto dolci e incoraggianti. Grazie. Allora, credo che questa domanda altri si chiedono, altri che magari sono in Italia, negli Stati Uniti, in Germania. È sufficiente seguire solo una radio su internet, una chiesa su internet? O devono avere una chiesa locale dove andare ogni domenica? Certamente non puoi seguire una radio. Dei seguire Gesù, lo Spirito Santo. Per esempio, c'era Paolo che comunicava con le chiese e diceva, mandava lettere e diceva, salutatemi quelli che non mi hanno visto, che non mi conoscono nella carne. Ah, sì, sì. Solo le epistole? Diceva, sì. Lo conoscevano solo per le epistole alcuni. Beh, non c'è nessun problema. Noi non è che conosciamo lo Spirito Santo nella carne. Gesù di Nazareth non c'è più in giro, c'è solo il suo Spirito Santo. E allora non è che siamo sempre presenti, non siamo neppresenti, però tramite lo Spirito Santo possiamo avere collegamento. Ora, lei chiede se va bene che segua noi, non una radio, perché una radiolina cosa segue. Cosa segue una radiolina? Segui lo Spirito Santo, i fratelli che comunicano via radio, via posta, via telefono, via scrivendo e, beh, nel nostro momento si comunicavano tramite le epistole. So che ci sono dei diavoletti in giro che dicono che è sbagliato seguire una radio. Sono diavoletti, perché? Perché sono imbroglioni. Nessuno, come si fa a seguire una radio? Va bene? Non parlano proprio questa gente dello Spirito Santo, non parlano delle guarigioni, dei miracoli, le battesioni allo Spirito che avvengono, comunicando via radio. In una battaglia il generale, il comandante, il colonnello, comunica via radio i suoi ordini e i soldati sul campo di battaglia in base a quello che la radio trasmette. Non seguono la radio, stanno seguendo il generale. Certo. Va bene, noi quando leggiamo la Bibbia la seguiamo, non è che seguiamo un pezzo di carta chiamato Bibbia, stiamo seguendo lo Spirito Santo illustrato nella Bibbia. Le parole potenti di Dio. Alcuni hanno detto, ho seguito una radio, queste sono delle capre. Va bene, non so poi star lì a disperarti per questi. Allora, diciamo, la Chiesa, va bene se l'Ina segue solo la nostra Chiesa, anche se siamo su un altro continente e non a una Chiesa lì locale? Ma guarda, io non posso dire alle persone seguite a me e non un'altra Chiesa, perché ci saranno Chiese meglio di noi, perché no? C'è la Odicea, ci sono le Chiese mezze morte, ma ci saranno Chiese meglio di noi. Solo Dio può dirvi chi dovete seguire, non sta a me dirvi chi dovete seguire. Tu decidi se vuoi seguire la nostra missione, il nostro messaggio, le nostre predicazioni, in comunione con noi, nello Spirito Santo e portare frutti per Cristo insieme a noi, sei benvenuta. Però se il Signore ti mostra di andare a una Chiesa cattolica o protestante, va bene, va bene. Noi ti diamo la nostra benedizione, non c'è problema. Non siamo gelosi. Se tu ti unisci in un'altra Chiesa e non sono come certi che dicono, guarda, è del diavolo a non andare. Vai dove hai la fede. E se il Signore ti mostra di seguire noi, allora segui, noi ti benediciamo. Abbiamo ricevuto delle lettere di un fratello che lui era perduto, sperduto, non so se era ateo e ha avuto un sogno, una visione, un sogno. Il Signore gli ha detto di andare in internet e scrivere radioblasta. Ah, sì, era la sorella della Germania. Ah, della Germania. Era Lucia. Ha detto che, sì, il Signore gli ha parlato così all'improvviso, non ha mai sentito di noi, della nostra Chiesa, di te, di nessuno qui. Ha detto che è male appena lei sa usare il computer. Sì, ha ricevuto dal Signore chiaramente quelle parole di andare su internet e seguire radioblast. Lei ha detto, ma cosa è questo? Che radioblast? Cosa c'è? Ha trovato radioblast su internet e è ancora in contatto con noi. È una sorella molto speciale, Lucia, della Germania. Quindi non è che questa sorella Lucia sta seguendo una radio, sta seguendo per grazie di Dio lo Spirito Santo e di cui noi, io prego Dio che siamo una buona rappresentazione. Io non posso giudicare me stesso. Un altro ti giudica, non la tua bocca. Quindi se il Signore dimostra di seguire non la nostra radio, quelli sono mezzi di comunicazione, ma di seguire il nostro messaggio, la nostra predicazione, messaggi del tempo e della fine, di seguire un uomo di Dio che spero di esserlo, allora sei benvenuta, più che benvenuta. E facciamo la comunione, insegniamo a evangelizzare, viviamo corso biblico, seguiamo le pecorelle giorno per giorno con i nostri insegnamenti. Quindi non è una radio la domenica. Ma biblicamente parlando, ci sono delle scritture che sono contro il seguire una chiesa che è lontana? Tutte le scritture dicono di non seguire una chiesa fuori binario. Ok. Che sia lontana o vicina non importa? Lontana o vicina. Il punto è quello, una chiesa lontana su un altro continente è giusto seguirla? Ah, lontana geograficamente? Ma certo, sì. Io penso che dice lontana nello spirito, lontana dottrinalmente. No, no. Ma logico, Gesù è in cielo, qui non c'è tranne per lo spirito santo, non c'è più Gesù di Nazareth, a Nazareth o a Betlemme o a Gerusalemme. Stiamo seguendo Gesù nello spirito e noi siamo insieme nello spirito, in comunione nello spirito santo. Quindi se il Signore ti mostra che il Signore ti guida la nostra chiesa, sei benvenuta, certo che puoi seguire la mia chiesa o qualunque altra chiesa lo spirito santo ti dice. Ho capito, sì. No, ma lì non è venuta nella chiesa tanti anni fa, quindi ci conosciamo da tempo. Quindi diciamo, a questo punto dovresti sapere se siamo da Dio oppure no. Non solo perché le profezie, insegniamo l'Apocalisse, insegniamo il Rappimento, insegniamo tante cose, siamo sulla salvezza che non puoi perdere, ma semplicemente Dio ti mette insieme, cioè Dio ti guida una chiesa. Se ti ha guidato la nostra chiesa, gloria a Dio, preghiamo di essere noi degni, preghiamo di essere degni dei veri fratelli come te e altri come te. Preghiamo, speriamo, non crediamo di essere meglio di nessun altro, però Dio ci ha dato un messaggio di esporre le nefandezze delle chiese dell'Odicea che ingannano le persone. Un sacco di bla bla, un sacco di questo e quell'altro, però non guidano al Signore, guidano al Signore della loro chiesa. Che non è il Signore integrale, è il Signore protestante, cattolico, degeo, mormoni, eccetera. E quanti signori ci sono? Va bene? Sì, quindi le scritture, anzi, sono al favore di andare in tutto il mondo per dicare il Vangelo, essere un movimento, anche se non sei vicino geograficamente ma lontano. Le scritture sono al favore. Nel libro di Atti vediamo che i discepoli andavano di città in città, di nazione in nazione. Durante i secoli i missionari sempre sono andati su altri continenti. È normale andare per il Signore. E quando lo vedevano Pietro, Paolo e gli Apostoli, si dovevano andare in tutto il mondo. Sì. Ogni tanto leggevano un epistola, altrimenti il collegamento con lo Spirito Santo, come io ho dovuto fare nei miei 51 anni di missionaria. Molte volte ho dovuto essere guidato solo dello Spirito Santo. E per sapere se ero nella strada giusta, pregare, chiedo allo Spirito Santo, lui mi guidava, però poi, qui casca l'asino, devo controllare nelle scritture se lo Spirito Santo, se lo Spirito che mi guidava era quello Santo o un angelo di luce imbroglione. Le scritture diranno quale Spirito ti sta guidando. Amen. E quindi, anche se siamo distanti, oggi con la tecnologia non siamo così distanti. Grazie a Dio che possiamo stare insieme nello Spirito. Ma grazie a Dio che riusciamo a usare le tecnologie del mondo anticristo per la gloria di Dio. Sì. Guarda, poi lei chiede anche sul pastore di chiesa se sta nascondendo la verità, mi pare. Sì, ha detto non parlano del rapimento del tempo della fine. Non so se non parlano perché non lo capiscono o perché vogliono nascondere la verità. Ma non credo che normalmente un pastore di chiesa nasconda deliberatamente la verità. Non credo che sono tutti in pace a mamma. Io direi di no. Io credo piuttosto che semplicemente questo pastore, semplicemente, Dio lo benedica, non capisce le profezie. Perché nella Primo Corinthians 12 dice uno è profeta, quell'altro invece è guaritore, quell'altro amministratore, quell'altro apostolo. Quindi oggi c'è il problema che i pastori vengano trattati come un Dio. Uno che non cade a foglia, che il pastore non voglia. Assolutamente non è scritturale. Non è scritturale. Io non ho i doni nella mia chiesa che i fratelli intorno a me hanno. Uno è il piede, l'altro la mano, gli occhi, gli orecchi. Io sono il pastore, sono quello che insegna. Però qui ci sono fratelli che hanno doni superiori ai miei nel loro campo. Questo manca oggi nelle chiese. L'umiltà di dire sì, sono pastore, però non è che sono Dio. Non sono infallibile, come il Papa con l'infallibile. Beato lui, se ci crede. Cioè, il pastore deve avere l'umiltà di dire questo posso fare, questo non posso fare. Il pastore non è obbligatoriamente il profeta. Invece oggi tutti i pastori devono essere i profeti. E' per questo che sono profeticamente fuori binari, se chiese. Ci sono dei fratelli, delle sorelline piccoline che ci hanno dono di profezia. Superiore al pastore. Il pastore deve avere l'umiltà di dire questa profezia basata sulla parola. Io devo riceverla e ascoltare e obbidire. Siccome non lo fanno, lei chiesa un po' il binario. Comunque io credo piuttosto che non è che deliberatamente lui fa finta di non insegnarla. Semplicemente, poveraccio, non sa che pesce pigliare. E appunto ci sono pastori che non capiscono bene le profezie. Quello che non capiscono inventano teorie. Inventano dottrine. Non capiscono quando c'è il rapimento. Allora inventano. Tutti dicono prima e loro dicono prima. Hanno fatto un film left behind, tutti behind. Tutti dietro. Behind vuol dire dietro. Credo semplicemente che i pastori così hanno bisogno dell'umiltà di imparare. Imparare da qualcun altro. Non per forza da me. Ci saranno gente che insegnerà anche meglio di me. Trovateli. Ma da qualcuno dovete imparare. O benedetti. È triste questo. Io, per esempio, nel mio piccolo, all'inizio, ho imparato le cose basilare da tutti. Dersa e sinistra. Vediamo appunto che ognuno è centone diverso. Va bene. Il primo corinzi dodici. Ognuno ha il suo dono. Guarda. Il problema è che il diavolo ha diviso il corpo di Cristo, fatto dalle sette denominazioni religiose. Così, invece di combattere contro il diavolo, cosa fanno? Combattono tra di loro. Oh, i protestanti così. Oh, cattolici. Ma andate a combattere col diavolo. C'è teppetere i cattolici e i protestanti. Che già c'hanno abbastanza problemi per contro loro. Ha bisogno anche dei vostri. E poi tanti di questi qui che vengono accusati. Chi lo sa che sono meglio degli accusatori? Io non ho tutti i doni, dicevo. Cerchiamo di essere contenti con i doni che abbiamo. Guarda. Tanto tempo fa Dio mi ha detto di imparare da tutti. Dai credenti di destra, di sinistra, dei cattolici e dei protestanti. Imparare. Dovevo imparare le cose basilari. Poi quando ho imparato le cose basilari è stato facile separare. Quando c'è un barbacianni che predica in una chiesa delle cose che non sono scritturali, però per capire tu devi imparare la Bibbia per quanto tuo. Fatti insegnare da tutti, ma devi arrivare al livello che la Bibbia la capisci da solo. Però i pastori non portano le pecorelle a quelli verbi perché hanno paura di essere criticati. Hanno paura che uno diventi meglio di loro. Hanno paura che qualcuno prenda il loro posto. perché essere pastore di una chiesa oggi coinvolge anche un sacco di soldi. E allora il controllo. Invece no. La prima cosa che il pastore deve fare è liberarsi dai soldi. Nominare qualcun altro. Gesù, i soldi, l'importanza dei soldi viene mostrata dal fatto che nella chiesa di Gesù il responsabile era Giuda, quindi cercare di non fare gara, va bene. I soldi servono uno strumento come un martello, una tenaglia, un'automobile, una lavatrice, un frigorifero. E poi ci sono i soldi, tutto lì. Non è che devi costruire queste ridicole abominazioni, questi edifici che sono dei grandi idoli. Sì, scrivete l'idolo di Moloch, la chiesa della domenica. Gli edifici religiosi sono la maledizione del diavolo sulla chiesa. Ah, che bello le chiese della stalla di Betlemme. Dove sono? Ogni casa di ogni credente è una chiesa. E quelle della domenica sono abominazioni. Non sono nella Bibbia, non c'era il Nevo Testamento, eccetera. Non cominciamo con quella, adesso ci ho parlato abbastanza in questi anni. Insomma, imparate il basico. Io mi sono andato a fare imparare il basico. Poi ad un certo punto ho detto, ok, ok, va bene. Io voglio bene, cari amici protestanti, cattolici, però siete fuori binario. E ve lo mostro con le scritture. Oh, no, 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 io le scritture le conosco meglio di te, tu sei una setta. Con le setta, scusa. Nella nostra chiesa abbiamo cattolici, protestanti, ex tesno di Geova, ex mormoni, ex atei, perché sono una setta. Siete voi, setta cattolica e setta protestante. Siete voi gli settari. Insomma, Dio a un certo punto mi ha portato a livello che Dio mi ha detto, guarda, adesso il mio pastore doveva essere lo Spirito Santo. Ormai avevo capito il basico, come il cuoco che impara a cucinare. Una volta che il cuoco ha imparato a cucinare a friggere un uovo, a bollire le patate, a fare spaghetti con le vongole, a fare una piccola lasagnetta, una volta che ha imparato queste cose qui, poi può volare da solo nel cielo della cucina. Una volta che ha imparato la cosa basica della Bibbia e poi non ci vuole molto a vedere, perché la Bibbia c'ha, la Bibbia sono delle strade, la strada che porta allo Spirito Santo, la strada che porta alla salvezza, la strada che porta a dare tutto al cuore a Gesù, la strada che porta all'evangelizzazione, tante strade che portano diverse direzioni, però si ricongiungono tutte in Cristo. Invece che ha fatto il diavolo? La strada cattolica, quella protestante, quella di qui, quella di là, e si sono separate. Ci sono diversi modi di seguire la Bibbia, ognuno secondo la sua fede, però deve portare frutti in Cristo, non frutti cattolici, non frutti dei madonnari, non frutti di Martino Lutero e dei protestanti, frutti in Cristo, però questo nella zucca di acciaio non ossidabile, zucche religiose, non ci vuole entrare. Lo volete capire che Gesù non è protestante, non è cattolico? Vi vuole entrare in testa? Smettetela di criticarvi, amatevi, aiutatevi, voi lì siete come gli ucraini, come i russi, lì a scannarvi l'un l'altro. Guarda, viene il giorno, dice il Signore, quando tutti i figli di Dio saranno un solo corpo, senza più gelosia parrocchiali, senza campanilismi, non più sette, che sono una maledizione del maligno sul corpo della Chiesa mondiale. Il corpo di Cristo, com'è? Ammalato o guarito, Angela? Ammalato. Ammalato, c'ha cancri, tumori, leucemia, c'ha problemi mentali. Il corpo di Cristo è da ospedalizzare il reparto animazione, il corpo di Cristo. Devo aggiungere altro, c'è altre domande? No, no, va bene, grazie, hai risposto Alina, è tutto chiaro. Sì, poveraccia, Alina non ce l'ho con te, voi siete una famiglia preziosissima, vi amiamo, al cento per cento vi amiamo, vi benediciamo, che il Signore vi benedica, nella salute, nel vostro cammino con Cristo, speriamo che possiamo camminare insieme, speriamo di poter essere degni di fratelli come voi, altri come voi, perché qui il capo non deve essere frate Giuseppe, non è frate Giuseppe, deve essere Gesù. Se questa Chiesa non appartiene a Gesù, se il capo non è Gesù, per favore, ti chiedo Dio, nel nome di Gesù, di chiuderla, chiudi, non vogliamo essere un'altra abominazione, un'altra setta, chiudi, chiudi, Signore, che bello evangelizzare nelle strade una pecora alla volta. Adesso tu ci hai messo in 60 nazioni, pecore, tutte le parti che ci seguono di qua, di là, anche le capre ci hanno scoperto, le capre, i caprotti, i caproni, è pazienza, è il prezzo da pagare, tutti quelli che vivranno piamente in Cristo Gesù, Angela, soffriranno, saranno perseguitati, secondo Timoteo, 3.12, cioè se non ci perseguitano è perché siamo falsi, siamo addormentati, sia come minimo addormentati, come massimo falsi profeti. Un abbraccio, fratellini, lì nel freschino del Canada, tra le nevi e gli acciai, che voi arrivate fino a Polo Nord, se non mi sbaglio. Grazie, Signore. Io vi benedico, gloria a Dio. Amen. Angela, a te.